Ecco come preparare in quattro semplici passi uno squisito couscous di verdure. In una padella fai scaldare due cucchiai d'olio e fai stufare un porro tagliato a rondelle. Aggiungi 200 g di zucchine tagliata julienne, 200 g di piselli e 100 g di ceci precotti. Fai cuocere per 10-15 minuti aggiungendo acqua calda se serve. In un contenitore metti 320 g di couscous precotto. Aggiungi due cucchiai d'olio extravergine di oliva, amalgama e copri a filo con acqua calda. Chiudi con un coperchio e lascia riposare. Quando il couscous si sarà compattato, aggiungi le verdure. Aggiusta di olio, sale e pepe e mescola. Servi in tavola. Buon appetito e alla prossima videoricetta! Iscriviti al canale per non perdere le prossime ricette!